allora vediamo dov'è sto giro a destra e dove vado io vedo male qua ok hai visto poi lo vedi nel video porca droia perché queste cose complicate ma qua ce n'è di roba un trail a forma di trail preso 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 dai mamma mia bravo tutto così molla molla tutto bravissimo ma dove è la tavola? ah è qua va bene Sì c'è l'accompagno Ragazzi c'è il Varo Che ho fatto? Ma che ho fatto? Vedi quando vede trailer Alessandrino mette subito il gas Vada È scesa una ginocchiera Vabbè Aspettami un attimo Aspettami un attimo Vabbè 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 L'interpretazione sempre dell'arrivo Vabbè Vabbè Cancello 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 fermi Questo è il tagadà Vabbè A sinistra si faceva questo Vabbè Vabbè Ciao ragazzi Ciao ragazzi Vabbè Vabbè